A cosa serve il diploma di maturità dopo aver appena firmato un super contratto da 6 milioni di euro l'anno? Vale la pena sacrificare le vacanze estive dopo una dura stagione in Serie A e uno sfortunato campionato europeo Under 21? Domande che sicuramente hanno ronzato nella testa di Gigio Donnarumma, 18enne, portiere prodigio dell'ultima stagione milanista. Ma il ragazzo non ha avuto dubbi, partire per Ibiza con la fidanzata e tanti saluti alla commissione di maturità che lo attendeva in aula per una sessione di esami posticipata rispetto a tutti gli altri. A cosa serve il famoso pezzo di carta ad un calciatore? Nel passato altri hanno fatto una scelta diversa, come il portiere della Lazio Scudetto, 73-74, Felice Pulici, laureato in giurisprudenza. Credo che a Donnarumma non solo la famiglia non ha saputo e non ha capito l'importanza di avere anche un pezzo di carta oltre alla capacità tecnica di essere un professionista del calcio, però credo che in questo momento è venuto a mancare anche il Milan proprio per una situazione di difficoltà che stava cercando di recuperare. Il portiere deve avere questa capacità di evidenziare la sua maggior personalità, al di là del procuratore che è importante, al di là della società che è importante, della famiglia che è importante, ma deve far comprendere che lui è il protagonista numero uno della sua situazione ed è per questo che lui ha la necessità e l'obbligo di essere culturalmente anche preparato.